Presentato stamane a Palagianello Fantastico Natale, il ricco cartellone di eventi che caratterizzeranno le festività natalizie palagianellesi, un programma che mira ad esaltare il commercio e il talento locale, un programma fitto e riassunto in un manifesto a tema che prevede in buona sostanza un mese di festa e decine di appuntamenti tra cultura e intrattenimento, musica, mercatini e incontri legati al sociale. Il tutto per donare vita alle vie del paese anche nel periodo invernale. Il Natale palagianellese si accenderà a partire da oggi con una mostra fotografica ed un presepe rupestre a cura dell'Associazione Don Vincenzo Paradiso. La rassegna poi proseguirà con dei caratteristici mercatini nel centro storico, diverse presentazioni di libri, la collaborazione preziosissima della scuola Paesiello e due concerti di altissimo livello in piazza Giovanni Paolo II. Grazie al contributo del Duc, il distretto urbano del commercio, il 23 dicembre si esibiranno live i Terra Ross, il 5 gennaio invece toccherà a Graziano Galatone accompagnato dall'orchestra tebaide del maestro Maraglino. Ma perché fantastico Natale? Cosa devono aspettarsi i palagianellesi in questo mese di festa e aggregazione? Innanzitutto tantissimi eventi e poi la cosa che io voglio, non quello che vogliono i palagianellesi, è quello che i palagianellesi devono uscire da casa, anche nel periodo di Natale, anche quando ci sarà una serata fredda, perché quello che li aspetta in giro per Palagianello sarà fantastico.